So much to learn about, it'll make you wanna shout Blippi! Hey! Sono io, Blippi, e oggi incontreremo delle meravigliose creature marine! Sarà fantastico! Andiamo a vedere! Il mondo scoprirai, molte cose imparerai, Blippi! Hey! Sono io, Blippi, e guardate dove mi trovo? Eh sì! Sono in un porticciolo! Vedete i porticcioli? Sono specchi d'acqua che ospitano le barche! Ah! Fantastico! Diamo un'occhiata laggiù! Wow! Oggi siamo al centro di fauna marina di Bellingham, Washington! E con voi apprenderò tante cose su degli animali straordinari e sui pesci! Sì! Adoro i pesci! Andiamo! Wow! Oh, ciao! Tu chi sei? Ciao! Io mi chiamo Casey, e tu chi sei? Molto piacere, Casey! Io sono Blippi! Che cosa fai? Sto dipingendo alcuni dei miei amici dell'oceano qui sul soffitto! Caspita! Quelli sono squali? Sì, sono squali! Degli spinaroli! Oh, che forte! Beh, è un bellissimo dipinto, ma senti, ti dispiace se ora vado in giro a esplorare il vostro centro? Ma no, va qui! Bene! Guardate che bel posto! Caspita, sarà divertente imparare a conoscere la fauna marina! Sì, andiamo! Wow! Ma è pazzesco! Sì, perché la vedete? Quella si chiama razza! In realtà, notarla non è facile, perché si mimetizza alla perfezione con i colori dei sassi che la circondano! Già, proprio come io mi confondo con quest'altra creatura per via del colore che è arancione per entrambi, la razza si confonde con quei sassi, un fenomeno chiamato mimetizzazione! Sì, l'aiuta a restare al sicuro dai suoi predatori! Wow! Guardate questa vasca! Dentro ci sono dei pesci molto carini! Ehi là! Ciao! Ma guardali! Nuotano per tutto l'acquario e hanno l'aria di divertirsi parecchio! Oh, cos'altro c'è qui? Oh, ci sono dei ciuffi di alghe e anche delle rocce! Già, Casey dice che non si vede, ma c'è un'anguilla lì! Oh, e lei le darà da mangiare! Evviva! Ehi, Blippi! Hai trovato l'anguilla lupo? Si sta nascondendo nella sua tana! A volte, se ha fame, esce a fare un salutino! Sembra che mi tenga il broncio, ma in realtà siamo amiche! A volte le piacciono le grattatine sulla pancia e gli spuntini, soprattutto se sono gamberetti! Vediamo se questo lo mangia! Wow! Quanti belli animali ci sono qui! Mi piacciono tutti quanti! E guardate qui dentro! Wow! In questo grosso contenitore c'è un crostaceo e una gran seola! Oh, lo vedete? Eccolo! Guardate che bello! Fatemi spostare questa laminaria! Wow! Eccolo! La cosa straordinaria di questo crostaceo è la sua capacità di mimetizzarsi! Già! E può farlo grazie a quello che mangia! Per esempio, se mangia qualcosa di marrone chiaro, anche lui comincia a diventare dello stesso colore! Oppure, se si nutre di qualcosa di marrone scuro, come la laminaria che abbiamo qui, allora ne assume il colore, mimetizzandosi perfettamente! Wow! Che forte! Oh! Guardate! Un gamberetto! Ciao gamberetto! Lo sai che sei proprio carino? Vuoi una carezza? Sì? Vieni allora! Oh! Oh! Ecco fatto! Che carino! Ehi! A proposito di gamberi, guardate un po' questo! Wow! Per voi non ha l'aria di un gambero? Eh sì, il guscio è il suo, non c'è dubbio! Wow! Sapete, sia il granchio sia il gambero fanno quella che si chiama muta! Già! È quando la loro corazza esterna, vale a dire il guscio, si stacca e li abbandona del tutto! E questo? Oh! Questo è soltanto il guscio esterno di un gambero! Perché si è staccato dal suo corpo! Oh! Guardate questi animaletti! Eccezionali! Sono due paguri e remiti! Wow! Anche loro sono crostacei che però vivono dentro una conchiglia! Wow! Guardate cosa fa adesso quando lo prendo in mano! Si ritrae subito dentro la conchiglia! Ve lo mostro! Oh! Avete visto? Wow! Allora, prima era uscito un po' allo scoperto, ma adesso il paguro è tornato di nuovo nella sua casetta per proteggersi! Vedete? E io lo rimetto delicatamente dov'era! Wow! Guardate questa vasca! Mi pare che qui dentro ci siano dei granchi, dei pesci e un sacco di altri animali incredibili! Ci sono anche molte alghe e li vedete quei pesci lì in basso? Ciao pesciolini! Ehi! Avete fame, vero? Già! E guardate un po' qua! Abbiamo del mangime delizioso per questi simpatici pesciolini! Sì, è ricco di nutrienti studiati apposta per loro e per la loro salute! In pratica è come quando noi a pranzo e a cena mangiamo della verdura! È una cosa che ci fa bene! Ok, adesso arriva la pappa! Bene! Ecco qua! Guardate tutte queste conchiglie! Sono bellissime! E questa poi com'è grande! Guardatela! Vedete? È grande quasi quanto la mia mano! Wow! Ehi! Questa è talmente lucida che scintilla! E questa invece guardate com'è appuntita! Eccone un'altra che punge! Stavolta con tante piccole punte a guzze! Davvero meraviglioso! Un attimo! Tu cosa ci fai qui? Guardate c'è un animaletto di peluche! E non uno qualsiasi perché questa è una manta! Ui! Ui! Mi è venuta un'idea! Perché non esploriamo questa stanza per vedere se troviamo altri animali di peluche? Oh! Guardate qua! Ecco una tartaruga marina gigante! Wow! Le tartarughe sono proprio belle! Nell'acqua mentre nuotano si muovono con moltissima grazia! Flap! 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 Questa è carina, vero? Riposati ora! Ciao! Wow! Guardate qua! Quelli che vedete sono due salmoni! Wow! Questo sta deponendo le uova, mentre l'altro invece no! Uh! Guardate come nuotano! Caspita! I salmoni sono dei pesci proprio fantastici e diventano molto grandi! Eh sì! Ma questi sarebbero comunque piccoli in natura! Ok! Li appoggio qui sopra così almeno non cadono in acqua! Wow! Questo peluche è un'otaria gigante! Cioè, rispetto alla realtà, questa è piccolissima! Ma le otarie vere diventano enormi! E fanno questo verso! Uh! 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 Sì! Sono divertenti! Ah! È tanto carine! E adesso ti rimetto lì al tuo posto! Wow! Anche questa è una sorpresa! Guardate! E' la conchiglia di un mollusco! Vedete? Intorno a questo guscio duro! E dentro? Wow! Guardate! Si è spalancata per noi! E vedete che cosa c'è dentro? Già! Qui abbiamo trovato una perla! Wow! Ed è davvero molto bella! Oh! Tutto lucente! Qualcuno mi ha detto che le perle in realtà si formano a causa di un'irritazione e credo che sia vero! Wow! Guardate per terra! Wow! Ecco un'altra conchiglia! Già! Questo è di nuovo il paguro! Vedete? Eh sì! Guardate! Ecco qua l'animale! E poi si ritira completamente nella sua conchiglia per proteggersi! Già! Si appoggia così sulla sabbia o la roccia, dopodiché risbuca fuori! Poi si fa un giretto! E si rinfila dentro! Ok! Ora ti lascio stare qui in pace! Ecco fatto! Wow! Un altro peluche! Già! Questo è un pesce! E lo vedete quanto è piatto? Si nasconde così nella sabbia con gli occhi che sbucano quassù in cima al corpo! Già! Se ne sta lì tutto bello tranquillo sul fondale marino e questo pesce si chiama alibut! E l'alibut diventa molto grande! Già! Ma questo invece è molto piccolo! Uh! E questo non è un amore? Voi lo sapete di che animale si tratta? Già! È un indizio! Perché questo è un cavalluccio marino! Vedete? Somiglia un po' a un cavallo, vero? Oh! Che carina la coda arricciata! E guardate anche cosa ha qui! Una minuscola taschina! Con dei piccoli cavallucci marini! Oh! Ehi! Wow! Che bei colori che hanno! Oh! Ciao! Dunque vediamo! Wow! Eccone altri due! Già! Guardate un po' questa! Si chiama orca! Già! Orca! Wow! Lo sai! Sei proprio carina! Wow! Questo è un polpo! Oh! I polpi sono molto intelligenti! E vedete? Hanno questi otto lunghi tentacoli! Uh! Che sotto hanno delle piccole ventose per aggrapparsi! Ok! Ora ti rimetto qui! Oh! A quanto vedo abbiamo delle balene qua sopra! Oh! Le balene diventano proprio grandi! Sono davvero giganti! E inoltre respirano fuori dall'acqua! Fanno... Psss! E poi inspirano l'aria! Vanno di nuovo sott'acqua! E possono restarci per davvero molto tempo! Oh! Ehi! Guardate! Questo è un bellissimo beluga! Wow! È di un bianco abbagliante! Sì! Sembra quasi fatto di biancaneve! Ah! Per i beluga non c'è niente di più bello che starsene nel freddo delle acque più gelide! Wow! Guardate qui! Ehi! Questa che cos'è? Questa è una delle nostre nasse per granchi! E accipicchi! Oggi ce ne sono finiti dentro tanti! Sì! Infatti! Non riesco nemmeno a contarli tutti! Che tipo di granchi sono, Casey? Hanno un nome difficilissimo! Metacarcinus gracilis! E somigliano molto ai granchi porri! Tu li hai mai visti? Però non sono un po' più grandi! Sì! Esatto! Questi non cresceranno ancora molto! Wow! Possiamo prenderne uno per vederlo più da vicino? Ti dirò! Prendiamone addirittura due! Così possiamo vedere come è il maschio e come è la femmina! D'accordo! Sarà divertente! Wow! Guardate qua! Qui dentro ci sono due granchi! Benissimo! E ora come si fa a distinguere qual è il maschio e qual è la femmina? Oh! Questa è un'ottima domanda che mi fanno spesso! Di solito preferisco cominciare guardando prima la femmina e quindi osserviamo il ventre girandola sulla schiena piano piano come vedi si calma subito! Qui la femmina ha una specie di triangolo molto più ampio rispetto al maschio e questo perché la femmina avrà le uova a un certo punto nella pancia e quindi le serve più spazio mentre il maschio no! Ho capito! Quindi quella è la femmina e questo è il maschio? Esatto! Oh! Avete visto? Caspita che forza vero? E a me piace muovermi come un granchio! Wow! Non è stato divertente andare insieme alla scoperta della fauna marina? Sì! È stato fantastico vedere tutti quei pesci carini e gli altri animali! Wow! È pazzesco che riescano a vivere sotto la superficie dell'acqua mentre io e voi viviamo sulla terra ferma! Però è molto importante fare anche noi la nostra parte per mantenere pulita l'acqua! Sì! Bene! Siamo arrivati alla fine del video ma se volete vederne degli altri non dovete fare altro che cercare il mio nome! Volete fare lo spelling con me? B-L-I-P-P-I Blippi! Ottimo lavoro! Ok! Beh! Io continuo a imparare! Wow! Ehi! Sono io! Blippi! Wow! Vedete che cosa c'è dietro di me? Ah sì! Un mucchio enorme di tronchi! Wow! Oggi io mi trovo al porto di Olimpia! A Olimpia, Washington! E questi sono tronchi di alberi abbattuti pronti per l'esportazione in paesi dove serviranno! Stanno a costruire case! Ma lo stato di Washington è davvero in gamba perché vedete per ogni singolo albero che viene abbattuto le aziende del posto devono piantare almeno tre nuovi alberi! Allora direi che adesso andiamo ad esplorare il porto ma prima l'abbigliamento contro gli infortuni! Wow! La sicurezza è importante! E adesso andiamo a esplorare il porto! Wow! Avete visto là? È una gru quella! Ed è davvero enorme! Io adoro le gru perché afferrano gli oggetti da terra e li sollevano ad altezze pazzesche! Eh sì! Sono cose pesanti! Ah! Sapete? Vado a esplorarla da vicino! Wow! Guardate qua! Queste sotto la gru sono le gomme delle sue enormi ruote! Eh sì! Le gomme sono quelle nere! Mentre le ruote sono di un bell'azzurro! Ah! Tra l'altro avete notato che sono tutte in coppia? Vedete? Una e due! Sì! Non ce n'è una sola ma ben due! Ah! Ehi! Mi è venuta un'idea! Perché non contiamo tutte queste ruote e le loro gomme? Vediamo! Inizio a farlo da qua giù! Allora! Ne abbiamo una... Due... Tre... Quattro... Cinque... Sei... Sette... Otto! Otto ruote e otto gomme! Però un momento! Ricordate che le ruote sono tutte in coppia? Ok! Quindi sono otto... Moltiplicate... Per due! Quanto fa otto per due? Ci sono! Fa sedici! Ah! Esatto! Ma aspettate un secondo! Sono le ruote di un lato soltanto! Questo vuol dire che dall'altro lato ce ne saranno altrettante! Quindi ricontiamo! Sedici... Moltiplicato... Per due! È molto difficile! Vediamo! Sedici per due? Oh! Trentadue ruote e trentadue gomme! Wow! Ce l'ho fatta! Wow! Vedete laggiù? C'è un operaio al lavoro! Andiamo a parlare con lui! Ciao! Ciao! Ehi! Ciao! Come ti chiami? Io sono Frank! Oh! Molto piacere! Piacere mio! Che cosa fai qui? Ehm... Sono addetto alla manutenzione macchine del Terminal Marittimo E oggi come vedi tocca a quest'autogruo! Wow! Che forte la gru! Possiamo salire? Me lo chiedo! Dai! Che bello! Andiamo! Ce l'abbiamo fatta! Entrate! Dai! Entrate! Wow! Avete visto? Wow! Wow! Adesso mi siedo qui al posto di comando! E dove sta il manovratore? Wow! Però! Siamo in alto, eh? Wow! Ah! Oh! Caspita! È davvero stupendo! Ci troviamo a 27 metri d'altezza più o meno che sono circa 90 piedi! È tanto! Wow! E vedete quei ganci che ci sono laggiù? È lì che si appendono i carichi la gru solleva di tutto, dai tronchi alle barche ai bancali! Sì! Tantissime cose! Wow! Presto venite a vedere! Wow! Guardate quei grossi cavi! Sono dell'argano di sollevamento! Wow! Quanto è grosso! Entrate! E invece qui c'è il quadro elettrico! Caspita! Guardate un po' che roba! Accipicchia! E laggiù c'è un altro operaio! Lo vedete? Sta lavorando! Ciao! Forte! Ok! Usciamo da questa stanza! Wow! Ora entriamo nella sala motore! Wow! Guardate quanto è grande questo motore! Oh! Frank, mi spieghi perché è così grande? Vedi? Ha 12 cilindri ed è un motore diesel Cummins con sistema biturbo! Wow! Significa che è un motore molto potente oltre che grande! Guardate quanto è grande quel gancio! Ehi! Attenzione! Dondola! Caspita! Avete visto? È grandissimo! Wow! Serve per agganciare e sollevare carichi molto pesanti! Forte! Wow! L'avete vista? Questa nave è davvero enorme! Già, del resto è proprio lì che vengono caricati a bordo tutti quei grossi tronchi! E fatto questo, la nave poi attraversa l'oceano per andare a consegnare il suo carico in altri paesi! Ah! Oh! Che c'è scritto su questo cartello? Zona ad accesso consentito solo al personale autorizzato! Ah! Allora noi possiamo andare! Wow! Che tronchi! Ma quanto sono grandi! E ce ne sono una montagna! Che ne dite di provare a contarli? Dai, pronti! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, diecimila quattrocentoquarantaquattro, diecimila quattrocentoquarantacinque, diecimila quattrocentoquarantasei, diecimila... Oh, cavolo, a quanto ero arrivato! Ma niente! Beh, comunque... Forse è il caso di lasciare che gli operai riprendano a fare il loro lavoro. Meglio andare via da qui, così loro caricano altri tronchi sulla nave, ok? Ok, ci vediamo! Wow! Questa è una barca piccola! Wow! Questa è una barca di dimensioni medie! Wow! Questa è una barca enorme! E c'è anche un motoscalo, che vedete qui alle mie spalle! Il motoscalo viene posizionato sopra l'acqua, quindi si calano le cinghie sotto la barca, che a quel punto viene tirata su! Oppure si può fare il contrario, cioè sollevare una barca ferma a terra, come quelle che ci sono là, portarla sull'acqua e poi calarla! Ma dico, avete visto? Queste cinghie sono molto, molto grandi! E incredibilmente robuste! A dire il vero, quest'affare può sollevare più o meno l'equivalente di sette scuolabus! Oh, cioè un peso pazzesco! Sentite, togliamoci di mezzo, così loro tirano su una barca! Sarà meraviglioso! Wow! È un macchinario proprio enorme! Wow! Vedete come funziona? Allora, le cinghie si stanno abbassando gradualmente verso l'acqua E una volta lì, si immergeranno del tutto sotto la superficie e a quel punto la barca andrà a posizionarsi sopra di esse Dopodiché, le cinghie la tireranno fuori e quindi la porteranno sulla terraferma! Vedete cosa stanno facendo? Usano quelle lunghe aste per trainare la barca con molta delicatezza in modo che non vada a sbattere contro il molo Eh sì! Perché magari la barca non è loro e quindi devono averne molta cura e trattarla bene Come quando vi fate prestare un giocattolo da qualcuno Dovete assicurarvi di trattarlo con il dovuto rispetto! Wow! Avete visto come hanno sollevato la barca? Infatti, adesso è fuori dall'acqua! Le ruote del motoscalo avanzeranno sul cemento e la porteranno sulla terraferma! Wow! Che forza, vero? E ora diamo una pulita! Wow! Guardate un po' qui! Un bel mucchietto di cirripedi e anche le alghe non mancano, mi pare! Wow! Saranno anche buone, ma non fanno per me! Wow! Wow! Perfetto! È bella pulita! Yeah! Beh, adesso però è meglio che vada perché ci sono tante altre barche da esplorare! Già! Guardatele! Sono un'infinità! Bene! Siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne degli altri dovete soltanto cercare il mio nome! Lo fate lo spelling con me? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ben fatto! Allora alla prossima! Ciao ciao! Oh! Ehi! Sono io, Blippi! Ho con me l'attrezzatura da campeggio perché oggi voi ed io andremo in campeggio! Wow! Io adoro la vita all'aperto! È una cosa bellissima! Ci sono tante piante e tronchi e alberi! Wow! Guardate questo! Un insetto! Sembra che sia un bruco! Wow! Ciao ciao, bruco! Ora è meglio proseguire, così arriveremo all'area di campeggio prima che sia buio! Oh! Ehi! Guardate che pianta meravigliosa! La vedete? Questa è una felce! Wow! Guardatela! È di un bel colore verde! Ehi! Qui dietro c'è un albero! Oh! Scusami felce! Guardate! Proprio qui! Questo è un albero! Sapete cos'è un albero? Sul tronco alla corteccia e anche... Del muschio! Guardate quanto è alto quest'albero! È molto più alto di me! Ok! Vediamo cos'altro possiamo trovare! Wow! Ehi! Guardate! Un altro insetto! Ciao! Questa sembrerebbe una libellula! Ciao, libellula! Allora, come va la giornata? Molto bene! Adesso proseguiamo! Oh! 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 Guardate! Oh! Un ragno! Ciao ragno! Come ti sta andando la giornata? Io comunque ti sposto da questa parte, così evito di calpestarti! Oh! Bene! Continuiamo! Oh! Un momento! Qui ci sono degli altri insetti! Che tipo di insetti sono questi? Io lo so! Sono mantidi religiose! Wow! Sono molto belle! Guardate! Sono fatte così! Ehi là! Sono una mantida religiosa! Ciao! Wow! Ok! Uh! Ci siamo quasi, credo! Sono un pochino stanco! Uh! Uh! Wow! Guardate! È perfetta come aria di campeggio! Wow! Ok! Spostiamoci qui! E poi posiamo tutta la nostra attrezzatura proprio qua! Ecco fatto! Oh! Ho bisogno di un po' d'acqua! Ah! Molto bene! Sto tirando fuori tutta la mia attrezzatura da campeggio! Sì! Oh! Non possono mancare i marshmallow! Già! Ci faremo gli smore più tardi! Uh! Poi abbiamo i cracker! Uh! E il cioccolato! Avete mai assaggiato gli smore primador? Smore primador! Fa rima! Che sciocchezza! Uh! E il mio spiedo per gli smore! Ah! Uh! E? Il mio album da colorare! Così dopo posso colorare nella tenda! Sarà divertente! Bene! Che cos'altro abbiamo qua? Dunque! Abbiamo l'acqua qui dentro! L'acqua non deve mai mancare perché bisogna idratarsi! Mm! Buona! Mi piace l'acqua! Uh! Questo è il mio caro sacco a pelo arancione! Uh! Sarà caldo e confortevole! Uh! E ho anche una bella sedia blu! Questa la aprirò più tardi accanto al focolare! Così potrò godermi il calduccio guardando il fuoco! E potrò anche preparare i miei smore! Ah! Ok! Allora... Qui abbiamo... Un fantastico binocolo! Wow! Guardate! Questo ci permette di osservare cose molto lontane! Come gli uccelli! Wow! Ce n'è uno proprio là! Ah ah! Ciao uccellino! Ciao! Ok! Per ora lo metto qui! Uh! Una lanterna! Osservate! Wow! Fa un sacco di luce così di notte possiamo vedere anche quando è buio! Un bottiglione da un gallone pieno d'acqua! Così quando sarà ora di andare a dormire la userò per spegnere il fuoco! In questo modo non rischierò di incendiare il bosco! Sarebbe molto grave! Oh! Già! Il mio bastone da campeggio! Ah ah! Sì! Questo lo vedrete dopo! Mi aiuta a stare in equilibrio quando cammino per i sentieri! E... Ultima ma essenziale... La mia tenda! Sì! È una casa o quasi! Ma quando si è nella natura serve un posto per dormire, giusto? Infatti! Ok! Allora apriamola! Adesso dobbiamo piantare la tenda! Bene! Al lavoro! È come un puzzle! Wow! Questo va da un'estremità all'altra! Qui ne ho un altro identico al primo! E ora la parte divertente! Solleveremo la tenda! Siete pronti? Siete pronti? Come vi sembra? Come vi sembra? Meravigliosa, vero? Tadà! Tadà! Adesso ci si può dormire dentro! Wow! Ho dimenticato di togliermi le scarpe! Sì, ci si toglie le scarpe prima di entrare in una tenda Così non portiamo dentro della sporcizia Ok, chiudiamo la zip Oh, è troppo divertente! Ok, l'album da colorare lo metto qui Ora devo tirare fuori il mio sacco a pelo Sì, il mio sacco a pelo arancione Ok, questo non ci serve E adesso è il momento! I sacchi a pelo sono veramente comodi Sì, di notte tengono bene al caldo quando fa molto freddo Ok, ci sono Ecco, così va bene Wow! Wow! Visto? Questa notte dormirò al calduccio Ok Oh! Ehi, ora possiamo divertirci! Infatti possiamo colorare! Qui ci sono dei pastelli a cera Io adoro colorare quando vado in campeggio Perché è una cosa semplice e divertente da fare Perché è creativa! È davvero fantastico! Avete mai colorato? Ahah! E avete mai disegnato qualcosa di originale? Perché qui possiamo colorare questo albero Guardate! C'è Blippi! Benvenuti nella mia casa sull'albero! Ahah! Oh, ecco fatto! Sì! Potete colorare una figura già disegnata Oppure cercare una pagina bianca E quindi disegnare qualcosa di originale Usando il blu Un cerchio E poi... Due cerchi! E... Ahah! Una faccina allegra! Con... La lingua! Eeeh... Ok! Beh, che cosa facciamo qui dentro? Siamo in campeggio! Ci sono tante cose divertenti da fare fuori! Per esempio, possiamo andare fuori a giocare a nascondino! Che ne dite? Ahah! Uhuh! Uhuh! Adoro giocare a nascondino! Ahahah! Allora, quando si gioca a nascondino C'è chi deve nascondersi E c'è chi deve andare a cercare! Sì! Quindi io mi nascondo E voi mi cercate, d'accordo? Allora, eeeh... Bene! Pronti? Ora... Contiamo fino a cinque E voi chiudete gli occhi, pronti? Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Ehi là! Mi vedete? Mi vedete? Sì! Ehi! Mi avete trovato! Uhuh! 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 Non sono di fatto un adulto Se non lo sapevate! Voi bambini Non dovete mai accendere da soli Un fuoco da campo E quando c'è già un falò acceso Dovete sempre avere accanto un adulto Se non ci sono adulti Dovete chiamarli Così! Ehi! Adulti! Qualcuno deve venire a controllare il fuoco! Ehi! A proposito di fuoco da campo Vi ricordate del bottiglione Da un gallone d'acqua di prima? Sì! Sono circa 3 litri Virgola 8! Sì! Assicuratevi di avere sempre dell'acqua Vicino a un falò Così nel caso in cui andasse fuori controllo Potrete versarci sopra dell'acqua Sì! E spegnerlo! Ma... A dire il vero Qui è in un ambiente controllato Vedete questo bracere Che ho costruito intorno? Ecco! Sì! In questo modo niente prenderà fuoco Ah, e un'altra cosa Assicuratevi che non ci siano rami O foglie o altro sopra O intorno al falò Sì! Ora che abbiamo un fuoco da campo sicuro Credo sia arrivato il momento Per fare degli smor Li avete mai mangiati in vita vostra? Sono super golosi! Dopo una buona e sana cena Potete mangiare uno smor Ecco! State attenti! Allora Qui abbiamo dei cracker gram Esatto! Questo è un rettangolo Ma noi lo dividiamo a metà E ora Abbiamo Due Quadrati Gnam! Ok! E poi Abbiamo anche Un cilindro Sì! Questo è un cilindro Vedete la forma? Ma non è il suo vero nome Questo è un marshmallow Ed è una vera delizia! Ok! Per adesso lo metto qui Bene! Anzi Sapete? Forse dovrei organizzarmi un po' meglio Con questo piatto Bianco E tondo Bene! Ora vedete questo bel cioccolato? Eh sì! È il terzo e ultimo ingrediente Degli smor Adoro il cioccolato! Ecco! Anche qui ci sono dei piccoli rettangoli Li vedete? Sì! Tanti rettangolini Che insieme tutti uniti Formano un rettangolo più grande Dunque! La prima cosa da fare È infilare il mello Il marshmallow Sullo spiedo Così Non dovrete avvicinarvi al fuoco Perché sarebbe molto pericoloso Dovete sempre stare a distanza di sicurezza dal fuoco Sì! Perfetto! Wow! Stiamo cuocendo il marshmallow Wow! Sta diventando dorato Wow! È quasi pronto! Wow! È venuto una meraviglia! Lo vedete? Wow! Wow! Perfetto! E sembra anche appetitoso Bene! Appoggiamolo per bene Proprio sopra il cioccolato Che a sua volta È sopra il cracker E poi Il marshmallow E poi Un altro cracker Sfiliamo lo spiedo Oh! Perfetto! Lo vedete? Io lo chiamo Gnammi 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 Dolce S'more Gnam 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 Pronti? Buono! Direi che questo è il momento giusto per la canzone del campeggio! Metteremo una tenda proprio qua Sotto questa luna che sognar farà Accenderemo un fuoco e poi farò un arpeggio Ehi! Facciamo la canzone del campeggio! In campeggio ti divertirai Andare a caccia e pescare imparerai In campeggio il sole prenderai In campeggio ti divertirai Noi faremo passaggiare Noi faremo passeggiate insieme e poi Vedremo animali e insetti se lo vuoi Ci racconteremo tante storie Fidati e vedrai In campeggio ti divertirai Cantiamo insieme! In campeggio ti divertirai Andare a caccia e pescare imparerai In campeggio il sole prenderai In campeggio ti divertirai Possiamo far canoa nel fiume qua giù E ma sempre guardare gli uccellini volare lassù Ci sarà il momento per giocare Ma non dimenticare lo spray anti-zanzare! In campeggio ti divertirai Andare a caccia e pescare imparerai In campeggio il sole prenderai In campeggio ti divertirai Tutti insieme! In campeggio ti divertirai Andare a caccia e pescare imparerai In campeggio il sole prenderai In campeggio ti divertirai I smorr sono super golosi E fare campeggio è un vero spasso! Vi siete divertiti oggi insieme a me? Che bello! Beh, siamo arrivati alla fine del video Ma se volete vederne degli altri Tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome Volete fare lo spelling con me? B-L-I-P-P-I Blippi! Ottimo lavoro! Benissimo! A questo punto direi che è meglio spegnere il fuoco Forza! Vai con l'acqua! Wow! Ehi! Sono io, Blippi! Guardate dove sono! Wow! Oggi mi trovo all'iFly Indoor Skydiving A Seattle, Washington! Ragazzi, che forza! Sì! Paracadutismo Indoor! Già! Quando si fa paracadutismo Ci si lancia giù da un aereo Wow! Wow, che paura! Poi si apre il paracadute E si atterra sul suolo Oggi però Noi faremo paracadutismo al chiuso Sì! Ci sono delle ventole giganti Che spingono l'aria con potenza verso l'alto Tu sei in mezzo E in questo modo voli! Sì! Sono davvero molto emozionato Andiamo! Ciao! Benvenuto all'iFly, Blippi! Grazie dell'invito! Vai pure al piano di sopra Noi siamo pronti a farti volare D'accordo! Forza, andiamo! Zona di osservazione del volo Oh! La zona di osservazione dovrebbe essere quassù Oh! Sono così emozionato! Wow! Eccola qua! Wow! Questa è la zona di osservazione E da qui si può guardare E questo? Questo è il tunnel del vento! Oh! Sono molto emozionato! Wow! Guardate qua! All'interno della camera di volo Ci sono molte palline Tutte colorate E anche qualche giocattolo Ehi! Ho un'idea! Perché non facciamo partire La camera di volo E vediamo quali oggetti Si mettono a volare per primi? Oh! Andiamo! Wow! Ehi, aspettate! Indossiamo i dispositivi di sicurezza Ehi! Proprio laggiù Ci sono Gli armadietti gialli Wow! Sì! È questo! D'accordo! Questi sono Gli occhiali Oh! Sono puliti! Proteggono gli occhi Perfetto! Poi I tappi per le orecchie Mettiamolo nell'orecchio Perfetto! E ora questo E qui c'è l'altro orecchio Ora sono entrambe tappate Bene! Adesso così Noi possiamo entrare E vedere quali oggetti Volano! Wow! Guardate qua! Abbiamo un contenitore Quindi vedremo quali oggetti Volano per primi Ed ecco che qui abbiamo Delle normali palle da wiffle Una blu E una rosa Oh! C'è una paperella di gomma Ehi! E un pollo di gomma D'accordo! Ehi! Guardate laggiù! Wow! Una grande palla da basket! Wow! Bene! Avviamo la camera E vediamo quali oggetti Volano prima Wow! Lo sentite? Wow! Le palline iniziano a muoversi Wow! Prendiamo le palline Ehi! Ho un'idea! Perché non versiamo Un po' di quest'acqua E vediamo se fluttua nell'aria? Pronti? Wow! Wow! Avete visto? Vedete come vola nell'aria? Wow! Ci vediamo dopo, goccioline! Volano davvero molto in alto nell'aria Ne aggiungo altre Ancora un po' E poi ho un giocattolo segreto Wow! 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 Mi stanno colpendo! Mi sto bagnando! Va bene, guardate qua D'accordo! Allora, vedete laggiù? C'è un magnifico fucile ad acqua E adesso lo riempio Molto bene! E adesso che è pieno di acqua Siete pronti? Wow! Di solito quando lo uso Gli spruzzi vanno molto lontano Ma ora... Wow! Wee! Haha! Wow! Hahaha! Wow! È davvero una montagna d'acqua! Haha! Wow! È stato molto divertente giocare con questi giocattoli E vedere che cosa è capace di fare l'acqua Quando l'aria arriva velocissima dal basso Lo scopo di questo posto Non è far volare i giocattoli È pensato per i corpi E per volare nell'aria noi stessi Quindi impariamo come possiamo fare Nell'aula! Haha! Wow! D'accordo, cosa facciamo? Ehi Blippi! Guarderemo un breve video Ti insegneremo ciò che ti serve sapere E poi voleremo Fantastico! Suppongo di dover guardare il video! Haha! Wow! Che video forte! Haha! D'accordo Blippi! Ora sai come si vola, giusto? Sì! Direi di sì! E ora qualche domanda D'accordo! Cosa vuol dire questo? Allungare le gambe Corretto! E quest'altro? Piegare le gambe E questo dice di rilassarsi un po' Fatto bene! Regola numero uno Mento in su! D'accordo! Sembra che tu sia pronto a iniziare Ora indossa l'attrezzatura Va bene! Prendi il casco, gli occhiali e la tuta da volo D'accordo! Fai pure! Ora indosso tutti i dispositivi E poi potrò volare! Sì! Bene! Ho parecchie cose da mettere Guardate qui! Devo indossare la tuta da volo Il casco Gli occhiali E i tappi per le orecchie D'accordo! 3, 2, 1 Guardate qua! Come sto! Sono pronto a volare! Andiamo al tunnel del vento! Andiamo al tunnel del vento! Faremo un high flight Che vuol dire volare molto in alto È stato stupendo! Bene! Ora facciamo andare l'esperto Forza! Sarà fantastico! Wow! Guardate il macchinario! Wow! È davvero enorme! Bene! Ci siamo! Guardate il bacino di adesso! Ebbene! Guardate il bacino di adesso! Ebbene! Bello! Bello! tasto! guardate come vola 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 all'iFly è stato divertentissimo stare all'iFly indoor skydiving a Seattle Washington è stato davvero forte avere tutta quell'aria che mi spingeva dal basso e aver provato come ci si sente quando si vola mi sono divertito molto ma siamo arrivati alla fine se volete vedere altri video come questo vi basta cercare il mio nome facciamo lo spelling del mio nome pronti B-L-I-P-P-I Blippi ottimo lavoro bene alla prossima ciao ciao il mondo scoprirai molte cose imparerai Blippi ehi sono io Blippi vedete cosa c'è dietro di me eh sì quelle lì sono biciclette gialle e oggi sapete siamo a Tenaino Washington e useremo queste belle biciclette gialle per esplorare la città forza wow allora prima di salire su qualunque bicicletta la cosa da fare è mettersi il casco la sicurezza anzitutto ecco fatto benissimo e adesso esploriamo questa bella città ciao 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 ehi volete imparare come è fatta una bicicletta dunque come già sapete ho in testa il casco che è il suo primo componente beh in realtà non fa parte della bici ma se volete usarla dovete mettervelo e questo che sto toccando ora è il manubrio eccolo qui il manubrio vedete è a questo che ci si tiene mentre si pedala e serve per girare proprio come il volante dell'automobile e poi quello giallo si chiama telaio è grazie al telaio che tutti quanti pezzi stanno insieme questo è il sellino cioè dove si sta seduti sulla bicicletta il sellino come vedete è morbido e imbottito e quindi molto molto comodo poi qui abbiamo le due ruote con i loro copertoni qua giù invece ci sono i pedali quando si fanno girare gira anche la ruota posteriore guardate vedete come gira wow i pedali di questa bici in realtà fanno anche da freno ecco guardate avete visto se spingete in avanti cioè fate così con i pedali che è in senso anti orario dal vostro punto di vista ma in senso orario dal mio e quindi fa niente se spingete in avanti sui pedali la bicicletta va avanti ma se pedalate all'indietro in questo modo allora la bici si ferma alcune bici hanno i freni sul manubrio esattamente qui ma questa no e guardate qui sopra potete caricare delle cose è un portapacchi dove potete mettere la spesa o la pizza oppure delle verdure o anche non lo so ok sapete che faccio mi rimetto il casco così continuiamo la nostra esplorazione è proprio forte questa città avanti allora partiamo avete visto pedalo anche sull'erba in realtà questa bici è fatta per andare sui marciapiedi sulle strade dove tutto è piatto è una bici da città però ci sono anche altri tipi di bici come la mountain bike wow wow che va molto meglio sui terreni irregolari come questo questo è il quarry pool e ora vi faccio vedere com'è dentro wow prima c'era un enorme collina che arrivava fin qui ma poi la gente tanto tempo fa la spianata il lago è profondo circa 100 piedi vale a dire 33 metri di profondità quindi se fai il bagno non tocchi il fondo wow wow si può anche nuotare in questo lago artificiale caspita guardate la cascata che bella qui si che è divertente farsi una nuotata wow wow mi sa che mi si è rotta la bici ehi perfetto in questa città c'è un punto bici dove si possono usare un bel po' di attrezzi allora la prima cosa da fare è appendere la bici qua sopra perfetto caspita guardate sembra che stia facendo l'impennata va bene basta giocare dobbiamo metterci al lavoro per aggiustarla vediamo un po' qui per esempio ci sono delle brugole e qui invece c'è quello che si chiama cacciavite a taglio un cacciavite detto a stella o anche a croce come volete voi e qui abbiamo una chiave inglese ci sono un sacco di attrezzi ma io penso che il mio problema sia solo che la ruota sgonfia quindi svito il cappuccio della valvola e vi faccio vedere come si gonfia attaccate il tubo qui e poi vi faccio vedere usate la pompa così perfetto direi che adesso è pronta per un'altra corsa è il momento ideale per la canzone degli attrezzi se gli strumenti userai un'avventura vivrai dei suoni sentirai se gli strumenti userai un'avventura vivrai dei suoni sentirai la pinza pappagallo fa clang clang poi prendi un martello che fa bang 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 il trapano si accende e fa zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz userai un'avventura vivrai e suoni sentirai senti bam e cric croc e dlim se gli strumenti userai dei suoni sentirai senti bang e boom clang e zing se gli strumenti userai dei suoni sentirai taglia i fili con le pinze senti zac zac poi la carta con le forbici fan zik zik se gli strumenti userai dovrai proteggerti indossa guanti occhiali e poi divertiti se gli strumenti voi volete usare le regole dei grandi dovete ascoltare se gli strumenti userai un'avventura vivrai dei suoni sentirai se gli strumenti userai un'avventura vivrai dei suoni sentirai senti bam e cric croc e dlim se gli strumenti userai dei suoni sentirai senti bang e boom clang e zing se gli strumenti userai dei suoni sentirai wow guardate sono davanti a un laboratorio dove si fanno sculture in pietra che si possono comprare ciao chi sei mi dici il tuo nome wyatt che cosa stai facendo scolpisco scolpisce la pietra scolpisce la pietra ho capito prima prendi lo scalpello dopo di che con il mazzuolo ci batti sopra come chiodo e martello proviamo oh ho visto che roba bene ora tocca a te oh vuoi colorarlo sì ok lo faccio rosso wow un lavoretto proprio niente male posso dare un'occhiata al laboratorio sì certo allora su andiamo salve come va oh benissimo oggi è una bella giornata eh sì come vi chiamate io mi chiamo ian williams e sono il papà di wyatt io sono kit salve molto lieto piacere di conoscervi kit che cosa avete qui? beh eh lì su quei ripiani abbiamo diverse sculture per i nostri clienti beh a quanto pare wyatt e la sua squadra fanno tutti questi lavori nella pietra a mano con un mazzuolo e la punta di quell'aggeggio che non ricordo come si chiama wow guardate qua secondo voi che cos'è? a prima vista sembra una mela ma in realtà è anche questa una scultura di pietra caspita che forte bene e ora continuiamo a esplorare la città yeeeh wow ehi adesso siamo davanti alla caserma dei pompieri volete sapere che tipo di veicoli ci sono qua dentro? allora ci sono le auto ambulanze ci sono i camion dei pompieri ehi guardate qua wow ragazzi avete visto che roba? quello che c'è lì è un vero camion dei pompieri wow dai venite salve cosa fai qui? sto uscendo per un intervento sto uscendo per un intervento qualcuno ha bisogno di aiuto posso venire anch'io con te? certo Blippi ok allora dai c'è gente che ha bisogno di aiuto da noi e quindi intervengo subito col camion ehi ricordatevi sempre la sicurezza innanzitutto devo allacciarmi la cintura molto bene e adesso che ho messo la cintura posso andare a rispondere a questa richiesta di aiuto quindi adesso innesto la marcia per partire e poi tolgo il freno a mano per uscire dalla rimessa così ora possiamo muoverci ok corro subito da chi è in pericolo sentite credo proprio che la situazione sia grave perciò presto andiamo rieccomi qua scommetto che avete già visto un'auto della polizia ma quello che sto guidando ora è un furgone pick up ah ah bene adesso parcheggio qui sul prato al lato della strada ah ah ecco fatto e ora possiamo esplorare il resto della città ah 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 ricordate la bici gialla? sì vero? è un ottimo modo per girare la città rispettando l'ambiente forza in sella ehi un momento perché non sto andando avanti? oh ah ah la mia bici è quella no perfetto si parte wow salve ciao Blippi è passato il sindaco che bellezza avanti tutta wow è stato super divertente fare questa pedalata con voi in giro per Tenaino, Washington la gente di qui vive proprio in una gran bella città ed è molto bello anche che ci siano queste bici gialle che possono usare tutti e gratis è una cosa stupenda bene siamo arrivati alla fine del video ma se volete vederne degli altri dovete semplicemente cercare il mio nome lo fate lo spelling con me? B-L-I-P-P-I Blippi bravissimi allora alla prossima ciao 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 ciao